per cento oppure ha veramente un fratello ma vive solo dietro di lui sapete che dentro di voi ti conosce quanto ti metto la cacca esatto il mio si chiama Omer 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 non so se ci avete mai giocato a quel giochetto penso una ventina d'anni fa che era? horror hollywood una cosa del genere che era quell'avventura punta e clicca tipo ma cosa hollywood monster? eh hollywood monster no 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 hollywood monster è questo e c'è stata a festa dove c'era lo schietto che si chiama Omer Omer è bellissimo troppo bello lo schietto che vabbè c'è tutto vai vai C'è ancora qualcosa nella strada Per me un picciolo C'è giù tutti A nord ovest Prendiamo il palazzo Monkey e Psygo E Fri dentro Libero Libero a destra Libero Ok Psygo e Fri Nel campo all'interno dentro Gli altri sopra Dai c'è di sotto Dai una mano a Fri Nel campo all'interno Non mi dico Poi dall'altro lato se vedi qualcosa Matto C'è un contatto morto Ricciuto stiamo tenendo Un caposaldo fino all'incrocio Pocane Occhio Contatti Ah Ah 3 4 5 Dietro l'angolo Scusate Oh ma non muore Ok è morto C'è un altro C'è un altro Portate i caricatori sulla mezzosi Ma non c'era posto Infatti stavo cercando di togliermi Soppia Quanti c'è ne hai? Sto a 32 kg No dico quanti c'è ne hai di caricatori però Quanto là 8 Ah madonna Direi che ti passo Ok ok Occhio ai nostri Arca troia hanno abbiato Ramius Ok Matto Fiu Tenete la posizione da qui sopra Monkey E si Ah ye Freeman E Psy con me Passiamo da dietro Andiamo a dare pure gli altri Lungo la strada Andiamo In punta upside Vivo Occhio sul lato sinistro Soprattutto Poggio Io abbiamo con la destra Soprattutto Compound Ma neanche sono sparati tra di loro No Non lo sapremo mai Perché io non lo vedo nulla Loro non vedono nulla Loro non vedono nulla Ragazza Sparata Ah il tizio per te che forse non era morto Non credo Vabbè c'erano quattro gatti qua Vediamo a Raven di spawnare altre unità Magari qualche protone Sarebbe una brutta idea Frio e Matt Stai recentemente recuperate entrambi i mezzi Uno di Bravo E uno di Alpha Li portate qui in fondo La strada Dove siamo sentati a nord ovest Palazzo De piani libero Ramon Copy Psy Grazie a tutti Sì, è vero, è vero. Ok, PSYF riscendete che siamo a bordo del secondo mezzo Penso che abbiamo steso un civile Mi avete sparato voi? No, penso che abbiamo bussato sotto Fox Bordo, bordo Eh vabbè, a me ne sei passato sotto Fox Prima su Eh, a bordo, a bordo Fox mi informano dall'intelligente che avete in visito un civile, occhi aperti Siamo comunque colonne di movimento Sì, lo sentite anche Non avevo dubbi Ma cosa? Eh, chiedete che siamo buttati come un gatto sotto il civile, ma ho visto Troppo più Non me l'ha arrottato di quel bordo No, no, non avevo neanche visto, guarda Tutto chiude Si è girata sotto il cancro Si è buttata da suicidare Beh, no, no Staccami, arrosticini per scena Sazzo la ragazza Moro Bocanaccio Come il sostro Sazzo la ragazza Occhio alta Ok, anche giù, artigliere a posto Giù tutti, le artigliere I tappi I tappi, cazzo I tappi Mi sono scordato Merda Sì, per te Ok, risaliamo a bordo e riprendiamo la marcia Prova a chiediglielo dopo Sì, tutti Sì, tutti Sì, tutti Sì, tutti Abbi, ti avrò Eh, non l'ho detto perché Ancora non ero in Copi, avevamo distaccato Tutti Procedi pure Ehm, bravo Fa frenate Grusche che devo Dietro ci abbiamo Fox Non vorrei che ci monti Eh, ma non mi sono frate Perché se proprio Mi fai di questa cosa Ha fatto casino allicinante Oh, non te lo dico Per prevenire E non curare Eh, non so che succederà Quindi, cioè Sì, lo so che succederà Però Intanto posso dirlo Pote l'avevo detto Capito Ah, capito Tutto calcolato Ah, cazzo un po' Ah, cazzo un po' Ah, cazzo un po' Così, la colinetta Avanti fuori alla strada Speri che non si trova Ok, giù Stop, giù tutti Copi, fox, sei in green Qualcosa di grosso Sopra la colinetta Linea verso nord-est che tirare mi stilate tecnica perci no è un bmp positivo abbiamo sentito fuoco esplosivo, occhi aperti la porta basta è un bmp no deja vu non voglio non voglio si trancianti per 0 1.5 tecnica diventa un carro armato mo diventa un mech regiudo quello a dare prendiamo la marcia non è chiaro dietro l'albero tra le prima aspetta ok perfetto vai redromarcia ah beh anche il giro è più bella mette il terreno su standard sicuro che me l'hanno cambia un po' trova non cambia il cazzo ma tra standard e low non cambia nulla si che cambia no ma tra standard e low non cambia nulla il cazzo c la nostra cosa è salita con un po' l'euro 40 ebbe forse un po troppo realistico ne che tu l'occhio umano sento una questione a becce a curvo bravo ramius che non ha sostanzi vp2 ricevuto scendiamo comunque andiamo in padrolla a piedi accostiamo un po' i mezzi poco più avanti ovunque troviamo un luogo un po' più un po' appartato per farci pensi 3 sono tentato di comunicarlo in radio giù giudo tenete pure la posizione un po' con la pietra un po' che buttano sotto un altro studio il piazzo è da qua a sinistra sotto la qui la vallada c'è lo scolinamento qui a sinistra fuori dalla strada che non scolino un po' vabbè 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 giù tutti vabbè negativo scusa voi lato est noi lato ovest ok alfa 2 fiorano e matt prendete la posizione qui sopra sulla roccia la decopertura arriviamo alle case gli altri si ma che nord ovest fiorano perché non l'abbiamo controllato no più che altro vado a mezzi mezzi nemici che non ci abbiamo eco stasera quindi spuntano così dal nulla ma qua sembra tranquillo alfa 2 una volta a breve riavviso recinate sulla casa quella più alta a tre piani con l'imparcatura di legno roger libero copi free è libera la tua? libero alfa 2 ore c'è una sola casa a tre piani gli altri procediamo con la pulizia di quelle rimaste qui sotto a sud est e quella più avanti a nord ovest passate qui sul canale di scena potete sentare pure al secondo piano senza che salite cioè non sul tetto ci mi raccomando sul balcone scegliete voi uguali libero libero iscriviti ecco il il contatti sullo skyline a 0-0-0 con la pulizia grazie infine alfa 1 cerchiamo di avanzare verso la posizione nord-est 0-6-0 casa con terrazzo blu scelta 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 l'ho trascinato tu? si ancora uno è vivo questo è a posto a posto, quando vai? ok, il terzo libero sto regioinando copy, alfa 1 sulla casa col balcone blu alfa 2 tenete pure la posizione roger dove sei? una puttana neanche a tempo avevo uno steso c'evo tipo un palo davanti della ringhiera e non lo vedevo perchè stava dietro ecco check ci sono ci sono, sono indietro ah c'è un camion, mi sa trasporto truppe a 2-0-0 vabbè, scarangiano loro la scelta c'era ora c'era un termine un termine Sì, colpi da un altro Contatti 0-0-0 sullo skyline a 100 metri da nostra posizione Corby, Sini Green, procediamo anche noi con l'attacco verso la posizione Alpha 2, Jack, tutto ok? Ok, sto sapendo Corby, scegliete uno che comunica perché in due avete comunicato e non ho capito nulla Sento un elicottero in arrivo E la via power 1, Jack, tutto ok? Grazie. Fuoristrada, in arrivo dalla strada 300, alta velocità, contatti a bordo del fuoristrada. Sono scesi, non li vedo più. Come se ci sono fermati dentro le case. Campo. Cazzo, non ci passo, sei ingrassato. Campo, free. Free. Occhio, ancora contatti qui a nord-est. Freeman posizione. Arigasi ovest. Campo, avanti. Campo. Affermativo, sono scesi le truppe a 300. Sono dietro le case. Copy, sulle barzine quelle in fondo sopra, vero? Affermativo, dove Fox sta sparando. Qui alfa, badd1, case libere. Ho ricevuto. Alfa 1, procede verso la zona dove è ingaggiato adesso Fox 280. Alfa 2, ricalcolate per copertura verso quella zona. Aspettiamo posizione di alfa 2? Positivo. 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 Matt com'è? Non sta a scivurare Scivurare un po' Eccolo cazzo hanno avviato No l'hanno preso Quanto è che era giù? Chi cazzo io? Alfa 2, qui alfa 1, aspettiamo vostro via libera quando siete in posizione Avanzate pure, alfa 2 al momento è indisposta Roger Bravo qui alfa, richiesta supporto medico su casa a tre piani lato ovest della strada Necessitiamo medico l'ultimo piano Mazzo, qualche droga che ho? Bravo, si te vuoi vieni Mazzo spadano Bravo, in check Mazzo spadano Ufff L'ho ripreso Ok, facciamo Eccolo cosa Ma io ho giusto spadano eh i nostri guarda vado là me li inculo con la sabbia proprio lampo lampo buono boom chi era che ha sparato? ma perchè mi avete sparato? vi voglio bene io eh Fiume sa che serve il supporto medico al F2 sganciamo mi serve il supporto vero? no non ci serve il supporto medico vanno gli altri ma gli altri li lasciate lì mica mi hai chiesto tu supporto medico si noi abbiamo risolto ma chi è che ti ha sparato tu o gli altri a me pare tanto ha sparato pari da viper ma perchè mi ha dato così tanto viper no no ok ok e siamo qua sopra vabbè ok torniamo vallì proseguite su sul lato est noi abbiamo finito vanno sopra vabbè è finito il lato est controllate controllo un attimo sopra la collina lì a nord est si arriva qualcuno alfa 2 avanziamo sulla posizione avanzata anzi negativo Fiume e Matt tornate al recupero dei mezzi portateli fino alla posizione avanzata a ovest rumo la strada Roger qui alfa 1 gruppo di case libero ricevuto della posizione in arrivo roger tramite Sprateli da Fiumeange sull'altro mezzo Affermativo ma 3 E' qui Matri? E' ci vediamo il marker e il rendezvous ragazzi E' ripeti? Siamo sul rendezvous Perfetto, perfetto Scendete pure fra il rendezvous Sì, vedete qui indietro Uh, non me l'ho Dicevo, ripeti, parlavo lindu No, no, ho sentito dal marker Perfetto, non vedo più Sì, va qua, va qua Vai, come si Sto coprendo da una strada Eh, c'è a bordo Sto coprendo da una strada No, negativo Se è quella No, quella più avanti a nord-ovest No, negativo, negativo Restate in posizione Sto coprendo da una strada Sì, vedete qui Sì, vedete qui Sì, vedete qui Sì, vedete qui E' qui Sì, vedete qui a 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 fiora entriamo dentro che cosa c'è un mezzo e e 0 6 9 negativi bravo cazzo c'è c'è un mezzo 2 4 0 2 c'è proprio in bocca infatti non lo vedeva forse per la ottimo lavoro fox eh è proprio quello dove sta parito negli ero sti doppi perché sta in direzione alfa 2 tenete la posizione alfa 1 scendiamo sotto perimetro sotto freeway pure la squadra alfa bravo a chiedere i tappi dove hai che stava 0 4 0 nella pallata 0 BMP in arrivo da 0 2 BMP in zona BMP in zona da 0 3 0 sei sotto Matt Lee? via 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 sì sono sceso ma sono rientrato 0 0 0 ecco che arriva ah aiuto 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 passi coperti dietro le case coperino guarda è passato sotto fox coperti coperti adesso sono stato in mezzo allo strato mi sta distratto fuori strada sulla strada montati a bordo principale lì i più 0 0 è negativo per h ok minaccio minacce eliminata alfa se hai tutti i operativi progetti pure con il check nella casa al nord alfa matt check tutti quanti check 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 ok perfetto riprendiamo le posizioni alfa 2 sopraelevata su staccato 1 bassa sui moretti a nord est quando tornano la perlustrazione bravo e ghietti tappi già fatto oggi è fatto a giant pietro giudo non lasciamolo operativo per il metodo di attuale disabilità ma perché mi ha chiuso la porta aeri fuori no no stai dentro, stai più coperto a me intanto dobbiamo coprire il nord, nord ovest stavo guardando nel lato vicino al fiume diciamo che erano anticoltati a parte la prima stai sparando un mezzo a bravo eh perché sento rumore a cadenza di fuoco tipo veicolo è abbastanza distante verso 020 sarà 700 metri alfa giù scendiamo ma siamo verso nord ok scendiamo lasciamo spazio a Fox che fa manovra ragazzi lungo la strada andiamo che altro rondo fuori fino alla casa arriviamo eh anzi negativo spazziamo dietro sto scollinamento eh linea linea qui eh e mezzo Fox qui a destra il passo a destra cazzo togliatevi da dietro togliatevi da dietro alfa sul lato sinistro ovest sullo scollinamento recuperare stamina pregiuto ok sento fuoco dall'installazione ah non è l'installazione imitare è una villa puttana hanno spottato cazzo si contatti multipli alla villa eh tanti sono eh positiva infatti era l'obiettivo finale che ci hanno già spottato sganciamo la posizione via 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 sganciamo dietro sganciamo dietro torniamo ai mezzi devo danno curare al volo si fermate qui sotto lo scollinamento è sufficiente bravo torniamo ai dietro ok ok fox dal promontore resta avere una buona visuale lì intorno alla casa resta pure in posizione sull'uomo gesticito ovviamente nel micromenagement la posizione micromenagement è bella Allora, non ci mi banisci? Ok bravo, porto del mezzo Ok bravo, porto, porto Fino azzù Esatto, di dell'in Chirona dentro Attimo Chirona Alfa è bravo, avanziamo lungo la strada Fox tiene la posizione fino a che non arriviamo sotto a Circa WP3 o perlomeno fino a che non ci perdi di vista Dopo rejoina lungo la strada No Positivo, presto, non ingangiamo la villa Negativo per il posizionamento Ci spostiamo noi di conseguenza Fox, non si preoccupate Sparano dalla villa, vai dritto Ripeti comunicazione Ricevuto Finito l'attraversamento del ponte In 10 secondi potete iniziare l'attraversamento voi Ok, positivo Fox Procedete pure con il rejoin Non con la strada In 10 secondi potete iniziare l'attraversamento voi Bravo Sostiamo prima del... Dei entrare in contatto con la città Cerchiamo di fare spot La discrezione Più vicino possibile Cerchiamo di arrivare senza essere spottati No No Brando per un cittadino Ci fermiamo qui No Ok No Ok No Lascia tu me qui Vai lascia Così va bene Per giunto so sta qui Perimetro tutti intorno al mezzo Scendi pure Bravo Uno Facciamo le con Scusate ero io Scusate Ero io che ho sparato Scusate Contatti a bordo Sto a bordo Sto a così Sperare a G-Pastro Sto a prendo qualcosa Finistro Ah no Non si viva Sto a rispondere Ah no Sto a viena solo No 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 Sto a viena solo Sto a spottin con Cosi Vedi quello Sto a andrò a fare una bracciolata Sua rida del fiume L'abbiamo disturbato Eh Grazie a sui conazionati C'hanno solo il fiume In questa cazzo Di tanda desolata Povero Se farei ingaggi col Con l'asero Qua Ti accettano Ti quanti Certo Daser verde Punto per verde E li accettano tutti quanti Scusate Dicisi Scusate Puntaglio Più di cinque secondi Esce per foreglie il cervello Attraverso la corda Puh Dici Massimilità Dopo cominciamo a spammare Puttashashmitad Poro Ma calmo Psyco Cazzo vuol dire proprio roba Eh Stanno davanti Copriteli Oh Pure Psyco 50 meters Ahead Mmm 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 Ah ma ti vuoi Oggi A gazebo Non so se ve lo vedete Hanno detto una cosa in russo Che era tipo Soka Yogi E' una cosa del genere Che è tipo Daie Russo Che cazzo No ma soka vuol dire puttana What the fuck Che? Soka è puttana No Che se? Caglia Della cosa Come aspetta Curva Curva è polacco No è croato No ma vuole per tutti Ma qua è colato Su The Witcher è colato il polacco La spanna Curva Curva con la C In croato vuol dire Troia Giuro Eh può darsi E c'è quella K Quella K è E' il nostro Dio Bono Curva il pierdole E così quasi andrei dritto Sì Ti tiro sotto A sede Ciao Rave E' un duro fa Vai andiamo andiamo Prossimo scolinamento Di metti Dove so sta Bravo Non è stato primo Bravo Va bene Ok Vabbè se mettete qui dietro sotto l'albero a sinistro Ma cos'è l'ombra dici Non è riscala Vabbè via 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 Sento Vabbè giù tutti Cazzo Ricevuto noi ci sentiamo sulla collinetta Alpha sulla collinetta sopra a nord Ne manca di nostre Siamo quattro Ah è quello Positivo Ricopriamo A B Fede A B Fede A B Fede ricco di fede che è bella popolosa e soprattutto i rifiuti e piazza di crisi di una volta a testo positivo un uovo il palazzo tv sul corpo infatti guardano e cominciamo per bravo qui alfa cominciamo con lo sforzare i contatti da lontano poi a cqb pensate voi bobera se vede più nessuno questo sono civili quanto stavano hanno in centro città 040 il palazzo quello vuole la cosa del legno l'ho occhio l'opera di stavano gli altri 05 060 la cosa stava con me pesca vengono la gente a spararti addosso, vedite il medico eh già 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 vado celere anche ho visto un movimento sull'altro lato del fiume tenete l'occhio verso la città, tenete l'occhio verso la città grazie ma non ho un quad del cazzo però che gioco l'abbiamo ancora le biciclette voi le biciclette che il prossimo video occhio dopo la sinistra no 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 0 3 5 ho fatto tutto hai visto stanno in mezzo alla città e occhio che ho visto bravo l'albero davanti un amiche eh l'albero davanti un amiche se l'albero davanti spostate la discrezione eh l'altro c'è l'altro albero mezzo mettete non lo so te lascio la posizione mia a dire vicino al site eh non so che c'è questa pure è la migliore copertura che possiamo fornire quindi da qua non ci possiamo muovere allora eh cazzo stanno c'erano contatti dentro la casa 040 precisa 041 occhio che occhio che i nostri avanzano lungo la cosa si l'ho visto si l'ho visto non vola skyline avanti avanti cosa? 2 2 0 0 andate cercarlo andate dagli supporti medico maestro guidatore sotto dose di adrenalina non ho capito che cazzo ma no no mi serve qua prima vado non c'è la persona metodo serve piazzato qua 6 6 dove sei piazzato con le due davanti a te anche a me 1 2 ma possiamo andare anche poco avanti eser si all'albero mi sa che è meglio vabbè pensavo già qua sotto occhio che entra nella casa quella è quella più popolosa copriamo io fuori eh quello è un pazzo tra poco andava sbattivo qualcosa cazzo in civile quell'ho fatto bianco il giudo è appena passato un camion civile forse avete sentito quello interrogativo più siete in posizione del carro tra radio negativo mancano 20 secondi per la chiedita della stamina io giudo ok non ti preoccupare comunico intanto al guiatore di scendere ricevuto fox qui in comando di pure al guiatore di scendere dal mezzo medico in approccio 50 metri tu hai una scelta di parole si molto esatto indisposto solo che tante volte mi vado mi vado in pelagà sono cazzate tante volte che sono parole che si usano in altri contesti eh eh fox è indisposto che cazzo vuol dire è quella cagarella povero madonna positivo positivo poi si è stata in posizione verso nord nord ovest lungo il ponte e poi proseguiamo con ragione dei mezzi figlio ha caccato il cazzo allora che cazzo avrà fatto c'ho un percatto c'ho in overdose di adrenalina ah è proprio lì per terra è morto perfetto ahahah così a caso madonna mi è passato un app davanti per se fosse un drone ecco ci hanno dovuto l'autista di fox ha perso tanto sangue e resteremo qua per un po' ha ricevuto ha ricevuto grazie l'info quantifica più o meno ehm minimo tre minuti occhio bravo ce l'avete alle spalle faremo il possibile ok l'attivo e app l'autista di fox ritorniamo ricevuto ehm tecnica dovrebbe essere neutralizzata ehm few e free in fase di rejoin caricate i mezzi portateli qui al centro città che serve per il rejoin ehm ricevuto da few run chiudo cobi fox ehm tenetevi pronti a rejoin stiamo recuperando i mezzi una volta recuperati e regionate al centro città prima del ponte ok sganciamo andiamo dove sta l'elettrica sul lato sinistro e tu negativo vanno al recupero dei mezzi di loro quindi negativo giudo fammi sapere se serve sul porto medico in zona in zona sg sg potrebbe esserci vediamo un attimo beh no è la tecnica che è rimasta accesa dai fai un attimo un check puttana sta per ucciderli tutti fai un attimo un check su quelli lì della decca arrivi arrivi girare un attimo di io ma se hai il brazzo da scelto i moletti adesso sinistro oppure le case questo casotto qui mi sa che è meglio vai, manda, sai, vai avanti tu, una scoperta è pulissima ok libero moto libero ok, visitatevi in posizione alfa 2 ok, presa dei mezzi, venite qui linea sui muretti a destra eh, hai visto che ero più rosso è venuto addosso? rotto in mezzo? mazza vabbè vabbè, piazzate... bravo qui comando siamo in posizione con Fox comunicami quando sei pronto in fase delle join questa cazzo villa la dobbiamo via prima di finire porca puttana ma questa zona col ponte è molto bella infatti, non è male ma la zona in sé è carina nella mappa il problema è che è spoglia, capito? è quello che fa... un po' brutto vengono, guadagnano gli fp se lo stanno andando a pescare 1 6 4 6 0 9 1 6 ripeto, 1 6 4 0 9 1 6 comunque c'è tutta bravo l'intorno quindi... dovrebbe essere facile andate pure risultato dai che tu stai? qua non ti vediamo ecco ok, negativo, negativo niente sopporto medico tornato in posizione falso positivo ragionando ragionando è appena possibile i mezzi vp3 ok, diretti di pronti sgancia matt e psi 30 secondi bmp, dall'altra parte della riva direzione 020 300 metri sta andando verso... ovest occhio fate basso a fox fate basso a fox ragazzi bmp bmp 350 lungo la costa si muove verso l'ovest e l'ha vista l'ha vista scesi scesi 2 2 3 3 4 4 5 1 5 6 5 10 6 7 io ok bravo a bordo del mezzo il secondo è il nostro scusate alfa a bordo del mezzo ilanzù fai coin ok perfetto no real ma con due anni sono due anni da cui vai vero comando in broadcast fuoco di mortaio in zona procediamo velocemente alla città successiva bravo il movimento vai perché sta fermo? vai 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 ha me sembrato un mortaio Fox non so se era mortaio o carro io ho identificato un mortaio ma non è sicuro dà un'occhiata verso Ovest scusa a nord è positivo allora procediamo velocemente verso l'obiettivo positivo eccolo Positivo, positivo, portaglio Procediamo l'avanzata Se WP4 è libera, procediamo lungo la strada Pino della strada Positivo, Positivo Positivo, Positivo Positivo, Positivo, Positivo Positivo, Positivo, Positivo Positivo, Positivo Positivo, Positivo Positivo, Positivo, Positivo Positivo, 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 Positivo Positivo, 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 Positivo Positivo Positivo, 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 Positivo Positivo, 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 Positivo Positivo, 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 Positivo Positivo, 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 Positivo Ok, Matt e Fiori sono stati in copertura Fiori amante, resta pure sul MG in mezzo, se c'ha colpi, alfa 1 avanza fino alle prime case, resto, vai, soltanto i muretti, alfa 1 Minizzo a sinistra, free Free man Free sinistra Non è venuto Ok, sacchetti sulla destra, sacchetti di immondizia 1.0, anti-carro Ok, alfa 1 avanza, alfa 2, scusate, avanza piano piano col mezzo Sono ai morenzi, è al sud di dimitare Resoluto, iniziamo la pulizia Occhio sul lato, sud, fuori dalle case, ci stanno dei tizi Ovest, ovest dalle case Cazzo, abbiamo riuscito colpo, colpo Alfa 2, scendi, scendi, anti-carro in zona, non riusciamo a sputtarlo Ok, alfa 2, prendi le case a destra Affermativo Alfa 1 tenete momentaneamente la strada, non entrate adesso nel perimetro del K1 Occhio Ottimo, grazie Grazie Non l'avevo visti No, sono spuntati adesso Ecco, procediamo qui dentro a sinistra, se troviamo il bugo Eh 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 Allora, la facciamo Aspetta, stai, stai 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 Hai raggiunta la manovra successiva, consiglierei la divisione ulteriore della città Voi prendete il lato Nord e noi il lato Sud Quindi vi facilitiamo Hai copiato? La strada divide a metà la città Voi prendete il lato Nord e noi prendiamo il lato Sud, ok? Ok, eh Alfa 1, regione al lato Sud della strada Ci dividiamo a metà con Bravo Bravo pulisce il lato Nord della città Noi il lato Sud sotto la strada Nella regionale E' il suo primo campound Sud Tutta mia la città Negativo, non è GQB ancora E' dentro Fu e Free e Psy L'ingresso è a Sud, è l'ingresso del campound, questo qua è il primo Ok, siamo inserendo il campound Ok, siamo inserendo il campound Ok, ok Free e Mat, Pulideira, casa Sud Libero La vedo Copio Alfa 1, regione su quella strada Alfa 2 una volta fatto, piazzatevi qui fuori sui sacchi di immondizi Lato Nord, lungo la strada Lato Nord, lungo la strada Lato Nord, lungo la strada Tieni sempre in mente Ok 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 Troviamoci sull'incrocio Lato Nord, lungo la strada principale Ok Ok Roger Roger Ok E dall'altra parte ci potrebbero stare i nostri, occhio all'FR e alfa 2 Dentro, sinistra libera Ok, cerchiamo di bussalla Casi ci sparano Sì, ci sono Sì, sono, sono Sì, per i pianti sono i nostri Ok, ma teniamo già suicampato qui lungo la strada principale, non andiamo a quelli a sud Ok, ho visto un contatto qua su sinistra, Macri Come? Libero Eh, ci deve essere un contatto dall'altra parte a 0-0-0 Dall'altra parte però Eh, fuori dall'altra portata Spunta, lo facciamo Stanno dietro? Eh, verso 0-0-0, Raven 0-0-0? Eh, sì, dietro la muraglia Figuro che non è il nostro, sì Eh, vestiva grigio No, i nostri sono a est in questo momento 0-0-0 Tutto libero ora Abbiamo un generatore stretto Copi avanzate lungo la strada Sempre nel lato sud Ok Figuro, qua non c'è nessuno Vabbè Vabbè avanziamo Vabbè Vabbè Vabbè, tenetelo presente No, restate lì sullo spiro Restate lì sullo spiro Raven, scusami E intendi Qua, questi qua a sud Vabbè No, ok No, abbiamo il lato sotto della strada Questo Stai campando qui lungo la destra Insomma Voliamo tutti questi Vabbè 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 Ok Ok Fiummat Regenate all'angolo successivo VP5 Spiro Della piazza Vabbè Vabbè Poi Progetto Stiamo ultimando verso il lato sud Comincio all'approccio verso la villa Teniamo lo stesso schema Voi lato nord Vabbè lato sud Anche se l'ingresso Dovrebbe essere moltissimo Se troviamo a nord e sud È perfetto Se no Entriamo al principale Ok PSY e free Continuate verso est Stanno Sì Ultimi due Fate velocemente Senza entrare nel merito Molto velocemente No Zero stamina io Ok Aspetta Recupero Pri vengo vengo tutte io Andiamo Vieni Vieni Ah Chissà Ma che minchia ho visto Alfa ragionato lo spigolo successivo Portaio vicino Coperti coperti mortaio Tana era veramente vicino Check Operativi operativi Bravo check Parte Rimpattato Ok perfetto Ok Prendete qui la posizione Alpha Andiamo Free Andiamo Free 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 Sì Stai Sei recuperato La riagganciate pure con Free Ok, Alfadore, cenate all'interno del campan, sull'ultimo verso est Roger Sì, non mi spiego, non mi spiego, non mi spiego. E' il Fox che ingagia qualcosa Tutta alfa, riusciremo sull'ultimo campound a est In fondo la via Ok, chi deve recuperare, recuperi Alfa 2, MG posizione Sulla porta, esatto Gli altri, sai mi serve che hai recuperato appieno che devi fare lo scatto fino ai cosi Fino ai inguretti Ok, bene, un attimo e vado Ok, comunica me la mia fatta Prima che parto qualcuno è a mare a caricatori? Che no 10, posso darne un paio Guarda, giusto 2, se proprio che vuoi Mettieni nello zaino Beh, mi sa che non c'è spazio nello zaino però Se aspettarmi tu, ti faccio un repartamento Ok, un altro e poi basta Se ce l'hai Vedo quello smezzato Vabbè, vabbè, non ti preoccupa, tanto vi ricompatto vai, va anche a smezzato, vabbè, perfetto Grazie Fate rebacc, chi deve, aspetta, aspetta Sto rebaccando anch'io Ok, quando ho fatto matto potete partire Bravo qui, alfa, situazione Eh, posto, sì, caricatori Quando posso andare Chiesa è pronto Ripeti l'ultima parte della comunicazione E poi puoi, boom Perché uno partiamo Ok, matto Sì Ok, bravo, noi partiamo Ricevuto, eh, ricevendo un attimo l'ultimo No, andiamo No, devo partire lui Lato sotto della strada Alfa 1, procede pure ai muletti a est Ok, dai, free, scattiamo veloci Non necessariamente le corse Eh, non potete andare in piedi tranquillo Però Occhi aperti Ok, per tutta alfa Occhio che abbiamo bravo in arrivo Tecnicamente da nord-est Adesso non so esattamente Ma i mezzi? Eh, i mezzi adesso non servono Recupereremo Recupereremo Del cazzo Mi sa che facciamo Chiusura sulla villa Se riusciamo Parca E perché Facciamo il tempo fa quella E basta Lo sai che ora avendo qui Sembra tutto tranquillo Copy, tieni la posizione E occhio che passa un attimo Mat, scusa Ok No Qui dove sta lì Eccolo Toffattone come corre E' tutto fattone E' tutto fattone Ok, alfa 2 Rejoina su alfa 1 Ok, poi puretti Roger Adesso è il campo Faccio il tunnel Faccio il tunnel Faccio il tunnel Faccio il tunnel ok allora per me è un muretto verso sud est basta che prima gli gridi allora seriamente allora alfa 2 teniamo la posizione alfa 1 pronti a muovere verso 1 4 0 ai muretti che lì in fondo è a sud est da lì da pure geniamo anche noi e muoviamo verso la villa poi successivamente quando pronti a alfa 1 per me comunica alfa 1 alfa 1 alfa 1 procede diversi puretti vai alfa 1 procede diversi puretti vai che ci sei? io ci sono sempre questa la farò mai andiamo ma che lì continui a chiamare F.H.U? che tra F.H.U è veramente pure io ogni tanto vedi che mi sbaglio eh il movimento è 0-9-0 la villa devi io faccio un archetto a destra perché ci sono contatti all'interno della villa positivo l'archetto a destra era da fare era scontato eh ho capito femminucce ricevuto attendi un momento sono i green su quelli da sulla villa pronti per per inserire poi aprite pure il fuoco sulla statica negativo poi sganciamo passiamo a destra e rifiniamo su loro si comunque sono due contatti sulla diciamo eh sulla stanzetta sinistra l'entrata del compound giù adesso c'è Alfa che fa una bella raffica sull'entrata perché c'è anche una statica mi segnalavano quindi quando aprono il fuoco loro noi sganciamo e inseriamo verso la la porta lato sud Roger ok Alfa 2 quando muoviamo restate 15 secondi cioè scusa 5 secondi sui muretti e se serve ingaggiate i contatti che ci ingaggiano se no riuscinate con noi sulla porta a sud bravo sei in green con il fuoco vai andate Alfa 1 vado passate via a destra possibile passo davanti 5 secondi e sganciateci possiamo sparare noi vado sgancia andiamo andiamo altri 4 contatti all'entrata non quella a sud quell'altra copio positivo era detto bene entrata a ovest alfa 2 regione pure siamo dietro copio copio tiriamo prima le granate e poi inserite vabbè c'è il lancio di granate però vabbè comunque c'è pure pronti con le granate alfa sopra la recensione mi raccomando assolutamente meglio lontane che corti quando volete bravo qui alfa iniziamo l'inserimento tiriamo le granate e procediamo con l'inserimento all'interno dal lato sud ranta fuori ranta fuori vai 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 fia occhio contatti contatti un carro via 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 ho visto la piazza di sangue fox mi raccomando c'è un carro nel lato sud est della villa all'interno della recensione pensi di poter ricalcolare per ingaggiarlo intervattivo ma mi sa che non c'è la fa fox perché è troppo un pianure rigido la collina al tuo est non ha visibilità verso la villa interradio grazie confio giudo fammi sapere quando è in zona è stand by è in movimento il carro E' solo uno che spara lì, non in trenta che guarda perchè se si arriva una gannonata siamo tutti morti. Ma si è spostato dietro, possiamo passare adesso. Si è spostato? Si si. Abbiamo comunque a tenne che lo fa Fox quindi... Si. E' se non entra dentro la voglia. Ok, MG sulla porta, alfa-1 provi ad inserire. Ok. Appena Fox si ingaggia il carro, inseride. Si. Guarda, copri un attimo Matt che da nocchio... Uuuu non è vero! Ok. Tu all'entrata ovest è pieno eh. Dopo quando ha fatto il carro Matt, passi sull'altro lato della porta e li fai. Ok. Dopo dopo non adesso. Ho spostato, mi sa che quello è il mortaio. Le sacchette di saldino. Sicuramente è quello. Ma una cosa Fiù, mettetevi all'altro lato. Pronto con lancio le ranate. Free, forse. C'è lui. Tu cosa? Su che? Ah, l'ingresso a nord in questo caso, da noi a nord è 010, l'ingresso a ovest della villa... L'ingresso a nord è il cancello principale. C'è un fottio decente con un mortaio. Se passi all'altro lato, intanto passi all'altro lato da fuoco. Che saranno 100 metri? Ma che 100? Divieni tutti quelli? Ma manco. De meno? Ah, abbasso 50. 100 metri neanche, vabbè. Vado. Vai. Eh, faccio un check su. Occhio alla statica. Eh, ho un fumogeno su voi. Vai, tira fumogeno, tirò la sua porta. Vi consiglio dirò di a te. Te lo sposto, ti matto, matto matto. Tiro fuori. Spes, spes. Spes, spes. L'effetto. Porca advento non è favore, vaffanculo. Come no? Stando aversi...eh, bom, non è al massimo. E' un altro su voi. No, no, preso. Siamo in cosa sono questi fumogeni, ovvero ve lo dico. Eh, mi sono portato il mio. Io lo ho usato. Per eurio, io ho verdi quindi. Teoricamente vanno presi i rossi o verdi, o bianchi. Non bianchi o no, rossi o verdi. E ecco. Troia da morì, porca troia. Ah, è la sua. ok è stata abbattuta Matt appena finito il Fumotion piazzate sull'altro lato della porta positivo stiamo ingaggiando verso l'ingresso della villa è pieno di 100 posso ingaggiare contatti multipli? Positivo, positivo, quello sulla tua porta non siamo noi Fox è il tuo che ingaggia stavo io Kobe, Alfe, bravo, inserite vado? vai 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 ecco te Fria, aggancate upside, arrivate velocemente fino all'ingresso della villa lì sotto Matt, guardate, guardate in campo aperto no vai 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 Fria, attaccate upside velocemente no sono i nostri che ci sparano, ma va a fanculo siamo al limitare della villa entriamo blue on blue stop no 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 vai sul tetto ragazzi sul tetto rimetro 360 sul tetto positivo attendiamo il rejoin di fox una volta che eliminando iniziamo ecco questo non ce ne è tratto ok dentro ci sono i nostri è entrata 1 4 0 è la porta sempre è la porta sempre ok dove è è tirata della canna no è tirata il contatto ok mi ronzo però è vacca vacca Positivo rende pure all'interno della villa e poi venite sul tetto. Buon capodanno cinese. E' brutta che sta mappa, mamma mia, è più schifo. A me non dispiace, perché lo preferisco molto di più a craft da me, però la verità. E io? Poi no. Io proghiamo di più ora che verrà... Ah, ma su uno è IEF. Non vedessi? Ma è tutta la partita che ho messo in guai, eh? Occhio anche all'ingresso a ovest, che ho visto il fumo anche a sud ovest. Adesso potrebbero entrare dove siamo entrati noi, ragazzi. Occhio a Levi, su 2-2-0. Non so se va arrivando quel cancelletto. Penso che forse lo vipersi, ma c'è anche un salto. No, vipersi, vipersi. Ha battuto. Eccoci. Ottimo. Allora, Dead lo cacciamo su da ECO, me lo date. Perchè è un osservatore coi cazzo. Volentirissimo, eh. Vediamo io e prima non ecco, top. Voglio dire, ammetto che lo butta fuori da ECO che mi serve a me come osservatore. Oh, c'hanno spotting pauroso, eh. Ma perchè citta? Ce l'avevo entuso, eh. Dove guarda, trovo a Renzi. Ma lui ti porta sfiga, cosa vuoi? No, grazie. Eh, ma c'erano ancora qualcuno a stradeci che venivano da 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 da. Ma da nord ovest. Eh, d'accordo. Eh, madonna, laderò fuori la giornata da dentro. Sì, da sud-est ancora. Per capodanno, eh. Ma qua non vuoi chiudere la porta così non entra. Qua se ti cessano aprire la fine si arrivano. Cattine, ehm, di salita a bordo del mezzo, FOX, ALFA, bravo. Ok, adesso andiamo per ultimi su... Mi pare qua, eh. Posso tirare la fumogena? Olore? Si, cioè... Positivo, vieni in overing sul testo, yes. Volevo lento. Eh. Meglio, meglio, se se per sbaglio si avvicinano troppo non esplode. Tocca a vedere il pianofilio. Non posso dire. Oggi siamo la storia dell'esercizio di Roma. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Che è successo? Perché cazzo? No, no. Oh, no, grazie. Sono cascato anch'io. Madonna, sono tutto scassato. Basta che te curi le gambe dopo pi... dopo penso al resto, ma... Così almeno puoi camminare Ah, è pronto e si è già a bordo dell'Empenso dopo Fox Vai, vai, vai Vai, andiamo, Fox Scusami, non ricascarci Non me lo ricordavo che c'era un po' Da, 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 da Ecco, altro Ha, 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 ha Occi, no! ... a bordo, la bordo, la bordo ... a bordo... ... a bordo ... a bordo Che era me, eh ... a bassi trans-quist ... a bordo ... a bordo ... a bordo ... a bordo Sì, sì, sì. L'acqua in L'acqua in L'acqua in Ok dai, a favor Spera Ahahahah Il cazzo Ha caduto un altro? Che c'è un mio problema Ma ditemelo che mi avvicino un povera Ma no, c'è una botola dietro No, c'è una botola dietro No, c'è una botola C'è una botola dietro Spera E' guai Spera 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 Oh, l'almine era il mare, l'azione è leggera leggera, se c'era il RHS, era pure meglio Eh beh, accontentiamoci, ma non va proprio? No, è che secondo me perché l'abbiamo lanciato a metà, andava un po' ai problemi, se lanciavamo tutto forse, non dava noie. Eh, fai. No, è dentro, è dentro la morte. No. Eh, è un mastino sta roba. Donatemi se non me lo parcheggio in linea, ma no. Non te ne preoccupate. 10 punti in meno, vabbè. Giù tutti. Sì. 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 ha già apparato il caso decisamente ramios caccia dead da lei caccia dead deve chiedere a me aspetta qualcuno spari attraico perchè sta contendo a parare qualche azione caccia dead era a pezziore era rama rama ancora dead salvadore mio no no l'ho apparato io vabbè inizia la conclusione rameon eh niente ottima serata scusate la mamma che fa cose strane molto liscia abbiamo fatto velocemente nessun intoppo quindi ottimo lavoro a parte la botola esatto esatto è per quello che non c'è nessuna villa esatto cascavano tutti dentro a parte questo comunque ottima serata ci vediamo martedì non so se tornerà back se no fatevi troppo pronto in caso con rhs vediamo se eh? che parte d'otto ma dall'alto dovrebbe esserci comunque sì meglio stendolo scaricato rhs esatto tenetelo aggiornato in caso vediamo di fare l'hers in mind quello che vediamo in un momento va bene? è ottimo perfetto ormai siamo arrivati all'autogestione eh non so come cose gli adolescenti gli adolescenti gli adolescenti gli adolescenti l'autogestione che si faccia molto tutti le chitarre e i cannoni basta mandolino qui dove dormire notte ragazzi notte 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 notte